Cinzia e Titta, siamo a Sanremo e voi di dove siete? Sono Manomar. Come mai siete qui? Per venire il festival. Quanti anni è che venite apposta a Sanremo per vedere il festival? No, quanti anni, siamo venute una vicina d'anni fa, un paio di volte e adesso siamo tornate quest'anno. Cosa ne pensate di questo festival? Bello, mi piace, nuovo. Per chi ti fate? Vengo lì, sempre lui. E lei, signora, per chi ti fa? Mi piacciono tanti. Mi piacciono i Cristicchi, mi piace il Max Cazze, mi piace il Donnievio. Mi piacciono tanti. Buona continuazione. Grazie.